Un mese molto impegnativo perché da qui a fine maggio abbiamo in previsione una quindicina di iniziative. Il primo appuntamento è il Giubileo del Malato che si terrà domenica 17 aprile presso l'ospedale Santa Croce di Fano dove Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasate terrà una celebrazione anche con l'apertura della Porta Santa e gli unitalsiani parteciperanno in divisa e assieme ai propri malati. L'iniziativa successiva è il primo maggio e abbiamo pensato ai tanti malati anziani che magari il primo maggio rimangono da soli invece quest'anno vorremmo portarli tutti al santuario del crocifisso ad Apecchio. Abbiamo quindi organizzato un pullman in partenza da Fano, saliremo al santuario del Santissimo Crocifisso e alle 10.30 ci sarà la celebrazione eucaristica e poi un pranzo assieme con i parrocchiani di Apecchio. Attesa anche la festa del socio? La festa del socio che si terrà l'8 maggio presso la cooperativa Tre Ponti, è previsto il pranzo al costo di 15 euro e a seguire l'estrazione dei biglietti alla lotteria. In questi giorni c'è la prevendita, i biglietti costano un euro, ci sono dei bellissimi premi, i fondi anche come sempre vanno a favore degli anziani, dei disabili, delle persone ammalate, anziane che sono nelle strutture o presso le case per favorire la partecipazione alle nostre attività.